Ciao a tutti ragazzi, allora con questo video vediamo un po' le informazioni più importanti riguardo l'Odissea. L'Odissea è il secondo poema epico che viene comunemente attribuito ad Omero, anche se in realtà probabilmente non l'ha scritto lui, è completamente diverso dall'Iliade, però vabbè, adesso non soffermiamoci su questo fatto. Il nome viene da Odisseo, infatti l'Odissea narra il viaggio di Odisseo, cioè Ulisse, che ritorna a casa sull'isola di Itaca, perché lui era il re di Itaca, dopo la guerra di Troia. La guerra di Troia è durata dieci anni, lui ci mette altri dieci per tornare a casa perché fa un giro del Mediterraneo che non finisce più, dopo lo vediamo, quindi di fatto sta lontano da casa venti anni. Però l'opera racconta soltanto una quarantina di giorni, perché poi noi conosciamo tutto il viaggio che ha fatto Ulisse in quanto lui appunto lo racconta con la tecnica del flashback. L'Odissea è divisa in tre parti che tra l'altro hanno avuto probabilmente origini diverse, ma poi sono state accorpate. La prima parte si chiama Telemachia e parla in particolare del figlio di Ulisse che si chiamava Telemaco che a un certo punto prende e va a cercare il papà perché non torna più indietro. La seconda parte è la parte in cui Odisseo appunto racconta la sua storia, per cui conosciamo tutto il viaggio che ha fatto e la terza è quella in cui alla fine effettivamente torna ad Itaca e vedremo dopo cosa succede. Vi faccio un attimo vedere questo, aspettate che allargo, questa immagine che rappresenta un po' i personaggi principali dell'Odissea, abbiamo appunto Odisseo o Ulisse, Penelope è sua moglie, Telemaco è suo figlio e ragazzi non mi si allarga lo devo spostare, Tiresia è invece un indovino che lui andrà a trovare nell'Ade, nel regno dei morti, Antino è il capo dei proci, i nemici che vogliono prendere il trono visto che lui non torna più indietro, ci sono vari dei, Atena, Poseidone che è il dio del mare, Zeus che è il capo delle divinità, poi in particolare vediamo Polifemo che è un mostro con un occhio solo, ne parleremo dopo, Calipso che è quella che si innamora dell'isola di Ogigia che si innamora di Odisseo, non lo lascia più tornare indietro, Circe una maga che trasforma gli uomini in bestie, Eolo il dio del vento, le sirene e Scilla e Cariddi che sono dei mostri, ritorniamo un attimo al powerpoint di prima, vediamo se è inquadrato bene e andiamo avanti, allora dicevamo la storia inizia con Odisseo che con la sua nave, con i suoi uomini parte da Troia per ritornare a casa, in realtà succede tutto un disastro che poi vedremo, l'opera però inizia nel momento in cui gli dei si trovano insieme per decidere se Odisseo può o meno tornare a casa, Zeus dice si basta, è venuto il momento di, perché lui di fatto era prigioniero della ninfa Calipso, bellissima ninfa, che si è innamorata di lui sull'isola di Ogigia e che quindi non lo faceva più partire, gli dei invece decidono che lui deve andare a casa per cui lei è costretta, cerca comunque in tutti i modi di tenerlo lì, offrendogli addirittura l'immortalità, però lui vuole ritornare dalla sua famiglia, dal suo figlio, dal padre e via dicendo, per cui abbandona. A questo punto però la sua nave viene colpita da una tremenda tempesta causata dal dio Poseidone, dio del mare che era arrabbiato con Odisseo perché gliene ha combinate di cotte di crudi a suo figlio Polifemo, lo vedremo, quindi lui perde la sua nave e si ritrova svenuto sull'isola, sulla terra dei Feaci, qui viene trovato da la figlia del re appunto dei Feaci che si chiama Nausicaa, lei lo porta a casa sua, lui si sistema e tutto quanto, c'è un banchetto, durante questo banchetto, perché loro non sanno chi sia quest'uomo, durante questo banchetto c'è un Aedo che narra e che canta le imprese della guerra di Troia, a quel punto Odisseo svela la sua vera identità, dice io sono colui che ha partecipato alla guerra di Troia, sono colui che ha inventato lo stratagemma del cavallo e racconta tutta la sua storia, per cui noi a questo punto sappiamo tutti i giri che ha fatto appunto per arrivare lì, infatti dopo i Feaci gli metteranno a disposizione una barca e lo faranno arrivare ed effettivamente ad Itaca. Allora, quindi lui inizia a raccontare, dice, racconta la storia del cavallo di Troia che appunto non si sa dall'Iliade ma è dentro nel Odissea, poi dopo il cavallo di Troia parte con i suoi viaggi, la prima terra che qua però non c'è in realtà è la terra dei Ciconi, dove i greci tra l'altro distruggono la capitale perché era stata un'alleata della città di Troia, ma questi poi si vendicano, i greci subiscono un contrattacco e devono scappare, incontrano poi nella loro seconda tappa la terra dei lotofagi, cioè i mangiatori di loto, che è un fiore che fa dimenticare tutto, per cui alcuni uomini di Ulisse mangiano, nonostante lui gli dica di non farlo, mangiano questi fiori, si dimenticano tutti, si dimenticano anche che vogliono tornare a casa. Prosegue il viaggio e la nave arriva alla terra dei ciclopi. I ciclopi sono questi mostri enormi con un solo occhio e mezzo alla fronte, Odisseo e i suoi uomini hanno a che fare in particolare con uno di questi ciclopi, che si chiama Polifemo, che è il figlio del dio del mare. Qui succede un casino, adesso non ve lo sto a raccontare perché poi leggeremo in classe la storia in particolare di questo personaggio. Il fatto è che il ciclope mangia alcuni uomini di Ulisse, e Ulisse però per riuscire a liberarsi acceca il ciclope, per quello che poi dopo questo non riesce più a tornare a casa, perché il dio Nettuno, arrabbiato perché lo ha fatto, appunto ha fatto questo male a suo figlio, gliene combina di cotte e di crude. Prosegue intanto il viaggio di Ulisse, a un certo punto approda sull'isola di Eolo, il dio dei venti, che ascolta la sua storia e gli dona un otre di tutti i venti. Ti dice, tu tieni chiuso quest'otre qua, perché così io tieni i venti, sono qua dentro, i venti contrari, quelli che non ti permettono di arrivare a casa tua. Tenendolo chiuso qui, tu riuscirai ad arrivare a casa. Il problema è che quando Ulisse torna sulla sua nave con questa otre, non dice ai suoi compagni cosa c'era dentro, e dice semplicemente di non aprire questa specie di borsa, questa sacca. I compagni, credendo che nella sacca ci sia un tesoro o qualcosa di importante, aprono l'otre, così si liberano tutti questi venti contrari, proprio nel momento in cui erano quasi arrivati a Itaca, tanto è vero che l'avevano vista in lontananza, questi venti li fanno allontanare. Per cui siamo punto da capo. Arrivano allora in un'altra terra, la terra dei, aspettate che non l'ha presa, la terra dei Lestrigoni, che sono degli uomini molto violenti, mangiatore di carne umana. E anche qui via che partono alcuni compagni di Ulisse. Poi ancora prosegue, arriva sulla terra, sull'isola di Eea, dove c'è la maga Circe che trasforma gli uomini in animali. Qui Ulisse rimane più o meno un anno, e alcuni uomini di Ulisse vengono trasformati in maiale. Lui invece, con uno stratagemma, riesce a salvarsi. Proseguiamo ancora. E a questo punto Ulisse scende nella terra dell'Ade, perché era stata Circe che gli aveva detto di scendere nella terra dell'Ade, che è la terra dei morti, per incontrare l'indovino Tiresia, il quale gli avrebbe detto se sarebbe ritornato a casa o no questo povero Ulisse. Tra l'altro, scendendo giù, trova alcuni defunti, tra cui anche la madre Anticlea, la madre di Odisseo, che nel frattempo era morta. Lui e i suoi uomini proseguono, arrivano nell'isola dove ci sono le sirene che ammaliano con i loro canti pescatori, i quali si buttano nel mare per andare da loro, ma poi annegano. Ulisse sa bene questa storia, allora cosa fa? Obbliga i suoi compagni a mettersi la cera nelle orecchie, in modo che non possano sentire il canto delle sirene. Lui però, che vuole sentire il canto, si fa legare all'albero maestro della nave e impazzisce quasi sentendo questo canto, ma almeno non si butta appunto essendo legato. Proseguiamo ancora, arriviamo a due mostri che sono Scilla e Cariddi, che si trovano su quello che è lo stretto di Messina, siamo vicino alla Sicilia, ai due lati opposti dello stretto, ci sono questi due mostri che ingoiano le navi, che creano dei turbini incredibili, vedete qua, per cui tantissime navi vengono distrutte, e anche la nave di Ulisse. Ulisse però poi prosegue e si ferma appunto sull'isola della Sicilia, che anticamente era detta Trinacria, che vuol dire appunto tre punte. Qui cosa succede? Succede che i compagni di Ulisse, che non l'ascoltano mai, mangiano le mandrie di mucche, alcune mucche del Dio Sole, sacre al Dio Sole, così poi il Dio Sole naturalmente si vendica, facendo morire tutti i compagni di Ulisse. A questo punto Ulisse resta solo, arriva sull'isola di Ogigia, quella che vi dicevo prima, dove la ninfa Calipso si innamora di lui, lo tiene lì a oltranza, fin quando i Gidei non decidono che è ora di partire. È ora di partire e parte con una zattera che lui stesso ha costruito, finché non arriva appunto sulla terra dei Feaci, e qui arriviamo a quello che vi ho detto prima. A questo punto i Feaci accompagnano Ulisse a casa sua, all'isola di Itaca. Qui si trova sua moglie Penelope che è incalzata dai proci che sono i nobili che vogliono prendere il posto di Ulisse perché dicono tanto questo è morto, non torna più indietro, ok? Però lei prende tempo, prende tempo, fin quando a un certo punto però la obbligano a scegliere chi dovrà essere il nuovo re dell'isola. Allora Penelope dice va bene, perché lei prendeva tempo dicendo che avrebbe scelto quando avesse terminato di tessere una tela appunto che stava tessendo, però lei tesseva di giorno e di notte la disfava e così non finiva mai di tessere questa tela. A un certo punto arriva Ulisse il quale si presenta però travestito da mendicante, infatti non lo riconosce quasi nessuno, adesso non vi sto a dire nei minimi particolari, se no arrivo oltre i 15 minuti e poi mi viene tagliato il video. Non lo riconosce quasi nessuno, a parte il cane, il cane Argo che lo riconosce muore, stramazza al suolo, troppo vecchio, però almeno ha visto il padrone tornare indietro. Ulisse quindi arriva come un vecchio mendicante, viene preso in giro da tutti i proci, tranne da Penelope che dice no, è un nostro ospite, lo teniamo qui. Intanto lei ha deciso chi sarà il successore di Ulisse, chi riuscirà a tendere l'arco di Ulisse e lanciare una freccia che dovrà però attraversare l'anello di 12 scuri e centrare poi un bersaglio messo in fondo. Tutti ci provano naturalmente, nessuno riesce, l'unico che riesce a farlo è Ulisse che riesce a farlo perché era il suo arco. A quel punto lui che si era messo d'accordo con il figlio uccide tutti i proci, in particolare Antino che era il capo dei proci ed era quello un po' più arrogante e quindi riesce a riprendere il potere in mano la situazione. Penelope ancora non crede che lui sia il marito finalmente tornato indietro e lui allora per farle capire che è davvero Ulisse le racconta come avevano fatto a costruire il loro letto del matrimonio. a costruire il loro letto del matrimonio.